buonasera benvenuti su rcb la radio per passione rcb live questa sera al carpe diem un gruppo fantastico eh il leader Giuseppe Gioia con noi ai microfoni buonasera e benvenuto e buonasera a tutti i radioascoltatori un saluto caloroso a chi segue questa radio e niente stasera siamo qui al carpe diem suoneremo un po di musica tra parentesi popolare perché la nostra musica è fatta di molte influenze quindi abbiamo un repertorio molto vasto che va da Carosone alla pizzica di San Vito eh alla musica celtica eh abbiamo delle sorprese poi che verranno eh ascoltate eh nel nel concerto Giuseppe Apulia Ensemble perché questo nome? Eh perché Apulia Ensemble perché riunisce tutto il nome vuole riunire le energie positive diciamo della Puglia eh insieme appunto vuol dire Apulia insieme no? per valorizzare il nostro territorio in primis poi ci spostiamo anche eh su Napoli su queste cose napoletane che eh ci piacciono molto musica tradizionale poi del resto no? tradizionale però non non tradizionale nel senso che prendiamo delle musiche tradizionali e poi le riarrangiamo noi noi con i nostri interventi con i musicisti che seguono questo progetto da parecchi anni appunto da quanti anni eh è nato questo gruppo questo progetto e poi parliamo dei lavori che avete fatto in questi anni? Questo progetto è nato nel 2005 e ha avuto come tutti i gruppi alti e bassi qualche musicista è cambiato eccetera eccetera i soliti problemi che tutti sappiamo chi si è sposato chi è andato via chi si è innervosito a un certo punto eh e poi sì un po' tutte queste cose anche la distanza noi all'inizio abbiamo iniziato con dei ragazzi di Lecce e poi questi ragazzi sai la distanza eh influiva però adesso abbiamo questo gruppo stabile che quest'estate abbiamo fatto una una un tour diciamo abbastanza grossi consistente in tutto il meridione diciamo così e abbiamo suonato tantissimo quest'estate e niente eh muo riprendiamo con questa serata al Carpe Diem perché siamo stati fermi a gennaio ovviamente febbraio per per modi anche per rilassarci un attimo e riprendere le energie il primo album che avete prodotto è stato un grande successo anche la stampa si è interessata a voi raccontami un po' come è nato il primo progetto e poi parliamo di questo che sta eh andando grazie anche a questi concerti che eh state portando in giro proprio per promuovere questo nuovo progetto e il primo disco che abbiamo fatto è praticamente è è stato una ricerca sul territorio e quindi si può considerare tradizionale al cento per cento perché è stata una vera una vera e propria ricerca con musiche già esistenti e delle nuove eh dei nuove dimmi dimmi dei nuovi brani composti da me e riarrangiati con insieme al gruppo dopodiché siamo stati un po' fermi e abbiamo fatto un altro disco che è quello che portiamo un po' in giro e questo disco è molto più influenzato dai musicisti stessi che vi partecipano perché ognuno di loro ha messo qualcosa insomma sì 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 allora il futuro Giuseppe? il futuro è insomma sempre questo è un mestiere diciamo difficile è un mestiere difficile e quindi il futuro va costruito giorno per giorno cioè ti devi dare da fare parecchio perché sappiamo che con la musica è molto difficile vivere con la musica e quindi io non dico che noi viviamo di musica perché ancora non è così noi facciamo parecchie serate però abbiamo anche chi lavora che ha lavoro fisso oppure eh però questo lo fa per ovvio pure per mantenere la passione da lezione di di i musicisti volevo parlare dei musicisti che suonano con me uno è Davide Chiarelli che eh eh studia alla percento di di Roma e al conservatorio è un ragazzo molto in gamba e il batterista Fona che cosa? batteria eh tamburello percussione lui qualsiasi cosa che si percura l'abbiamo visto l'abbiamo visto prima no Angelo Angelo la pistola lo devo ringraziare per la parte tecnica di questa intervista eh dicevo ho visto prima maneggiare un piccolo Fon per il suo tamburello sì 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 e quindi è un artista anche per questo ebbè bisogna riscaldare il tamburello per tirare la pelle altrimenti è moscio cioè non si sente il suono che l'artista vuole ecco poi parliamo degli altri artisti e poi c'è Ciccio Salonna al contrabbasso che è uno dei più grandi secondo me contrabbassissi perché è della zona è bravissimo guarda e oltre a Ciccio Salonna c'è il nostro sassofonista Giovanni Giovanni Chirico poi abbiamo una bellissima ragazza che suona il violino ed è bravissima intonatissima guardate sto parlando di una ragazza di un talento veramente perché la madre era una violinista che io ho conosciuto purtroppo è venuta a mancare da giovane e quindi la figlia porta avanti questo? si porta avanti si sta diplomando al conservatorio e c'è figlia d'arte invece? e poi abbiamo il nostro che stasera manca il fisarmonicista Giuseppe Gallone che purtroppo non era disponibile ma c'è qualcun altro a posto suo? no purtroppo non avete il sostituto meglio così per lui insomma però per noi che dobbiamo ascoltare fra pochissimo comunque va bene lo stesso invece c'è Giuseppe Ciova Gioia Gioia tira tutti i ragazzi tira tutti i ragazzi perché subito tutti ti danno addosso praticamente a me fa piacere insomma no che qui noi stiamo ad Ostuni da dove trasmettiamo però la nostra radio è ascoltata sia in provincia di Brindisi che in provincia di Taranto oltre a questo siamo in tutto il mondo sul sito radioperpassione.it ti ringrazio Giuseppe grazie a te Maurizio a tutto lo staff di Radio Città Bianca e un abbraccio a tutti i radioascoltatori grazie Giuseppe buona serata grazie 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 a tutti i ragazzi Non c'era da vini, non c'era da vini, non c'era da vini, ci sono i nubi, sono lì su spiritua, sono lì su spiritua, sono lì su spiritua che hanno chiamato. Awelli, awelli, awella, vedete il tuo cuore come ti bozzi più a mano, awelli, awelli, awella, vedete il tuo cuore come ti bozzi più a mano. Awelli, awelli, awella, vedete il tuo cuore come ti bozzi più a mano, awelli, awella, vedete il tuo cuore come ti bozzi più a mano. Awelli, 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 awelli E sia più bella tua, sia più bella, sia più bella tu di una chira sa Che da l'amore tua, da l'amore tua, da l'amore tua quasi tua guardia ti vascia Ai coro, coro, vedi zuccheri e limone, taglia l'arruassa, mocca, taglia zucchiera, la bocca Ai coro, coro, vedi zuccheri e limone, taglia l'arruassa, mocca, taglia zucchiera, la bocca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.